L'olotta mangia dalle mie mani. Vedete come apre la boccuccia. L'inverno l'acqua è trasparente, l'estate è verde perché le alghe ci sono, con il sole si formano, ma non danneggiano la tartaruga, non danno fastidio queste alghe. Vedete come mangia la paraculetta, paraculetta anzi è maschio. Si vede un po' male, ma si vede che mangia anche tremolante il video. Dove è andata?